Alla libreria Edison, nella presentazione del libro Italia Occulta, sono tante le pagine nere che vengono messe in rassegna in questo libro, non del tutto chiarite, però questo libro aiuta a fare chiarezza. Io ho cercato di scrivere un libro che fosse leggibile facilmente da chiunque, in particolare che fosse leggibile dai giovani, dai ragazzi che ovviamente non possono sapere cose agghiaccianti e complicatissime che sono successe 30 anni o anche 40 anni prima che loro nascessero. E mi ero posto il problema anche di fare una revisione ciclopica di tutti i processi relativi ai fatti di quel triennio agghiacciante che c'è stato fra il 78 e il 1980. E cioè praticamente dal sequestro e uccisione di Aldo Moro fino alla strage di Bologna, 85 morti. All'interno di questi due eventi, diciamo così, più enormi, ci sono un sacco di altri episodi particolarmente gravi. Gli omicidi di Pier Santi Mattarella, di Mino Pecorelli, l'omicidio di Giorgio Ambrosoli, tutte le imprese di Michele Sindona, di Roberto Calvi, la finanza vaticana, l'omicidio di Mario Amato, l'omicidio del capitano Basile, eccetera. Insomma, tante cose di questo genere. Ho fatto quindi, questo è un lavoro che è durato tre anni, ma tre anni a tempo pieno, perché ho dovuto guardarmi gli atti giudiziari di una serie enorme di fatti. Nessuno mai aveva letto, un'unica persona che avesse letto tutti questi processi e tutti questi fatti. Io l'ho fatto e praticamente mi sono accorto, ho trovato delle cose che neanche immaginavo. E ho cercato di scriverle in maniera molto leggibile. Ecco, si sono fatte le teorie, le ipotesi più disparate, al di là delle responsabilità, cioè dei nomi, che quadro emerge secondo lei? Cioè, chi ha attentato, quali realtà hanno attentato alla nostra democrazia, perché di questo si è trattato? Guardi, c'è stato un vero e proprio colpo di stato strisciante di quell'ambiente politico-sociale che aveva come minimo comun denominatore, diciamo, il versante occulto che era annidato in una loggia massonica precisa. Il quinquennio dal 1976 alla fine dell'80 è proprio stato il massimo di potenza di questo sistema di potere occulto che ruotava intorno all'alloggio P2 e c'erano delle compromissioni pesantissime anche da parte di personaggi di spicco del paese. Il sistema P2 era riuscito a governare occultamente realtà di enorme rilievo nazionale, ma gestita in modo tale da passare attraverso percorsi opachi e occulti, per cui la gente comune non si immaginava neanche, per esempio, avevano conquistato il Corriere della Sera. avevano conquistato la cosiddetta finanza occulta, quella appunto di Sindona. Le compromissioni fra ambienti del potere ufficiale e ambienti del potere mafioso erano, è stata notevole. Tutte queste cose sono riuscito a metterle insieme proprio in maniera documentata, perché poi ho voluto utilizzare solo le cose che erano sufficientemente provate e documentate, mentre le cose un po' evanescenti e nebulose ho preferito lasciarle in disparte, anche perché ci sono state nel frattempo anche molte bufale, depistaggi, notizie non controllabili e quindi anche magari false, per confondere meglio le idee della gente. Lei che cosa ricorda di quella perquisizione che poi portò alla scoperta della famosa lista e l'ipotesi che ne esistesse un'altra, si è parlato anche di un'altra lista che non sarebbe mai stata trovata, lei ci crede a questa ipotesi? Il fatto è che oltre agli affiliati alla P2 c'erano anche i cosiddetti affiliati all'orecchio del Gran Maestro e poi c'è anche da dire che leggendo il piano di rinascita nazionale, democratica lo chiamavano loro, che è una specie di costituzione del colpo di Stato strisciante, lì c'è scritto che esisteva, che era previsto anche un gruppetto di 30 o 40 persone al massimo che fossero i garanti del sistema di potere occulto, i garanti del piano di rinascita e questi 30 o 40 personaggi, non sappiamo chi potessero essere, non erano affiliati alla P2, questo era un gruppo a sé che piano democratica chiama una specie di club, quindi altri elenchi diciamo così, non so se ci sono, ma non è tanto importante questo, perché comunque sia c'era qualcosa anche di ancora più occulto, infatti la relazione finale della commissione parlamentare d'inchiesta, Tina Anselmi, una grande donna politica italiana, ha ipotizzato che al di sopra della cosiddetta piramide inferiore della loggia P2, quella che avevamo scoperto, ce ne fosse un'altra rovesciata dentro altre persone che potrebbero essere proprio il club di cui parla il piano di rinascita. Gli eventi del passato possono essere ancora attuali oggi secondo lei? Beh, siccome quei 30 o 40 personaggi non abbiamo mai saputo chi fossero, siccome può anche esserci che ci sia ancora qualche cosa di occulto che sta bollendo in pentola, questo come si fa a saperlo?